Ciao a tutti, sono Luca Gambini. Oggi voglio presentarvi due prodotti dedicati al periodo invernale. Il di ghiacciante per superfici quali vialetti e strade e il di ghiacciante per superfici vetrate e serrature. Questo è il prodotto dedicato al trattamento di vialetti, marciapiedi e strade. Può essere usato a scopo preventivo per evitare la formazione del ghiaccio oppure proprio sulla superficie ghiacciata per il discioglimento. Questa è la versione spray del VMD43 di ghiacciante, è un prodotto specifico per l'utilizzo su vetri, parabrezza e serrature. La speciale formulazione, oltre ad essere in grado di eliminare rapidamente il ghiaccio, ne ritarda la riformazione nel tempo. Ora vi faccio vedere l'applicazione su una superficie di vetro che abbiamo preventivamente congelato. Come potete vedere il ghiaccio si sta rapidamente sciogliendo. Vi ricordo che oltre al dighiacciante VMD43 è disponibile un'altra gamma di prodotti specifici per il settore auto. Potete trovarli tutti consultando il nostro sito internet www.wmditaglia.com e per qualsiasi informazione potete scrivere alla nostra mail info.wmditaglia.it. Seguiteci su tutti i nostri canali social, mettete sempre un like. Un saluto da Luca Gambini. Ciao!